Ciao a tutti ragazzi sono T93 e oggi recensirò una roba che è un figato questa roba di oggi non so come si chiama non me lo ricordo tanto da sempre più 20 mila nomi ho trovato su Wish Amazon più o meno 6 7 euro quello che ho comprato oggi è questo questo serve per fare il sushi come potete vedere che poi io faccio il sushi con salmone affermicato perché poi magari quello fresco non si trova proprio i matti e roba dunque faccio comunque affermicato con il sushi con questo serve per fare il sushi in maniera facilissima perché magari poi voi avete l'alga ci mettete la roba girate si strappa tutto dicevamo questa serve per compattare e fare il cilindro di sushi ora lo proveremo il sushi l'ho fatto con la ricetta giallo zafferano adesso non stavo a fare come si fa lo sushi perché sto parlando tanto non sono capace di cucinare non sono chi sono io per esistere alcuna roba lì ecco questo si apre si apre bisogna questo qua vedete questo tipo il pistone che servirà poi per far uscire il tutto ne mettiamo così ecco a questo punto dovete fare la roba in mezzo potete fare la canaletta in mezzo usando questo qua che proprio va bene anche per questo adesso usiamo questo lo mettiamo qua come stampino e chiudiamo andiamo così così poi questo strumento si usa qua per compattare in realtà dovrebbe bastare girare ma nel dubbio noi non rischiamo ecco adesso è abbastanza compatto e guardate adesso arriva la figata proviamo con questo allora la parte liscia va perfetto bene adesso vedrete la magia dell'ingegno umano guardate l'ultimo pezzo si mangia dopo ecco ma forse è niente e poi lo girate guardate che perfezione poi l'ultimo pezzo quasi taglia non serve fare molto e avete il vostro sushi vi lascerò adesso le foto perché sennò adesso devo finire il lavoro e sarò le foto del lavoro finito bene per oggi è tutto e alla prossima mattina 93 grazie a tutti